John Borno ragazzi benvenuti in questo nuovo video aiutandomi con OneFootball quella che per me è la migliore applicazione sul mondo del calcio o comunque quella che io uso maggiormente ve la metto qui e vi lascio il link qui sotto in descrizione per scaricarla quindi dicevo aiutandomi con OneFootball oggi torniamo a parlare di quello che doveva essere il colpo insieme a Cristiano Ronaldo dell'ultima sessione di mercato Modric all'Inter che in realtà ragazzi qualcuno ha appellato come se vabbè ma in realtà ragazzi c'è molto di più perché Modric all'Inter è stato possibile perché ausilio confermò di aver tentato di prendere Modric e perché comunque continua a confermare che mai dire mai che la possibilità c'è poi ho letto qualche articolo che vorrebbe addirittura Modric e Cross insieme all'Inter quella è una cazzata bella e buona perché in questo momento ragazzi già si riesce a prendere Modric è un miracolo anche perché Real Madrid non cede è vero che Modric potrebbe anche spingere un po' per partire visto che poi il Real sta in una situazione pessima però d'altra parte ragazzi Real Madrid difficilmente cede ha ceduto Cristiano Ronaldo già tanto che se cede Modric è proprio la cosa più brutta che possa capitare in questo momento a Real Madrid te pare che cede pure Cross quella è una cazzata bella e buona io sinceramente non vedo invece una bagianata quella di dire che Modric potrebbe andare all'Inter in quanto ragazzi ora a gennaio è difficile ma ci sta anche il Real Madrid è agli ottavi di Champions si giocherà la Champions la giocherà penso Modric come fosse l'ultima Champions con il Real Madrid della sua carriera e poi farà delle scelte secondo me Modric a fine stagione va via è vero che poi ha fatto delle conferenze ha fatto delle dichiarazioni in cui ha detto che vorrebbe rimanere che vorrebbe chiudere il Real eccetera eccetera però ragazzi il fatto veritiero perché non è una cazzata veritiero che a giugno avesse spinto così tanto per andare via mi fa pensare che probabilmente c'è stata quasi una forzatura da parte di Florentino nel trattenerlo è difficile è difficile per l'Inter prenderlo molto a gennaio diciamo anzi molto a giugno ancora di più a gennaio perché sinceramente in questo momento mi risulta molto difficile pensare che lui lasci la Champions per giocare l'Europa League qualora l'Inter fosse passata agli ottavi di Champions magari il pensierino c'era anche perché poi ragazzi il Real Madrid è quinto arriverà secondo è proprio secondo terzo però il Real Madrid è quinto perde e continua a perdere l'Inter in questo momento ha una posizione consolidata in Champions League qualora l'Inter fosse passata magari l'esperimento poteva anche farlo il fatto che l'Inter sia uscita nel girone con difficilissimo tra l'altro un Barcellona Tottenham e PSV ha un pochino ho bloccato il tutto secondo me a gennaio non si fa a giugno si potrebbe anche fare secondo me pare che ora si sia si sia riaperto questo famoso dossier Modric pare che l'Inter si sia rigettato su Modric non mi sembra niente di pazzesco cioè nel senso è un colpo pazzesco è un colpo della madonna ma non mi sembra nulla di impossibile prendere Modric perché comunque l'Inter ha i numeri ha una posizione di classifica buona addirittura meglio della Real Madrid in questo momento ha una potenza economica rispettabile a livello di ingaggio quindi gli può dare lo stipendio che vuole quindi secondo me non c'è niente di strano c'è da dire comunque che bisognerà convincere Florentino e poi il giocatore a venire in una squadra che farà l'Europa Liga quindi per me forse è più giugno bisognerà guardare la situazione del Real Madrid a giugno e poi valutare fatemi sapere la vostra un commento qua sotto mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto oggi tantissimi altri contenuti che ancora devono arrivare iscrivetevi mi raccomando tanti mi piace per altri video di calcio mercato buon salato all'alene come sempre ci vediamo ad un prossimo video Ciao